Benvenuti a impararsi e prepararsi, prima puntata abbiamo con noi questa sera il ministro delle entrate, eccolo qui, allora bene, noi adesso incominciamo con le entrate preparati, tra poco il pigiama parte, quindi noi iniziamo a prepararci, allora come si prepara nella nostra velocità, ecco qua, pantaloni, ovviamente abbiamo davanti questa giarrettina davanti, così non vediamo niente, ecco, allora qui si prepara veloce ovviamente, tiriamo qui dentro tutto, tiriamo fuori, il pigiama, ecco, tirato, almeno il pigiama tirato, e la notte, 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 eccola qua, eccola qua, con il doppio più, così, così, un po' più, quest'altro, ah, vedo che lei è proprio quella, cominta la notte, bene, ma sai che mi sa che ho dimenticato, no, no, non ho la maglietta del pigiama, ho questa che è bagnata, perché è proprio bagnata, è proprio bagnata, no, è proprio bagnata, no, e quindi inizio che ho dimenticato che ho la maglietta, è una roba bagnata, non ha problemi, mettiamo la maglietta bagnata, perché l'ho lavata stamattina con la lavatrice, e non si è asciugato, e non si è asciugato, non perché non c'era, insomma, quindi lei non ha imparato a prepararti, non ha imparato a prepararti, vabbè, prima puntata è andata male, vabbè, è un debutto, è un debutto, è un debutto, altre parti, eccoci qui, eccoci, lei è pronto? Io sì, rispettate un po' il bigolo, ecco fatto, a posto, siamo a cavallo, cera per i capelli, facciamo scaldare la cera, poi la mettiamo sui capelli, e poi possiamo modellare i nostri capelli, come cacchio ci pare, per esempio, ci va di fare questo ciuffo più in giù, ed è in giù, perché con la cera tu li puoi modellare, come ti pare, ecco, allora, manca l'accortezza, che è il borotalco per i piedi, perché noi sappiamo che di notte i nostri piedi possono puzzare, allora cosa si fa? Si mette il borotalco su, in fra le ciabatte, no? Ha un profumo di borotalco di piedi, lo mettiamo, ecco, andrei a mettere anche un po' sui piedi, anche sui piedi, mamma mia, ecco, mettiamo un po' sui piedi, via così, ecco, in questa maniera che cosa succederà? Succederà che per tutta la sera, la gente si chiederà, ma che cacchio è sta putta qui? Perché adesso si sentirà di più, forse, la putta, però, in questa maniera, ok, noi siamo a posto, non abbiamo più odori, preciso, salutiamo, salutiamo, il nostro pubblico, arrivederci, grazie al ministro, arrivederci, a lei!